Nicola Bebe, dai qui, dai qui. Bebe, è possibile una foto? Bebe, è stazzicchi. Bebe lo devo portare in Germania. è un grande diposto del canale da tarzeraiz Beppe è possibile una foto? Sì, è una foto. Aspetta, se no non lo prendo. Sei grande, Beppe! Grazie. Che bello, titta!